Partite IVA in difficoltà per la crisi economica legata al momento storico. Il parlamentare mesagnese Giovanni Luca Resta è intervenuto sull'argomento insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Il superamento del coprifuoco, ha detto a Resta, consentirà il pieno di spiegarsi della stagione turistica, ma anche la riapertura di molte attività. Il mondo delle partite IVA richiede moltissima attenzione e in questo periodo il Parlamento è impegnato proprio per trovare delle soluzioni. Sono varie le idee in campo in questo momento e cerchiamo davvero di essere quanto più vicini possibile al mondo produttivo nazionale, ma anche territoriale. Io voglio ricordare che non più tardi di una settimana fa ho avuto un incontro insieme ad altri colleghi parlamentari, in particolare colleghi impegnati nelle commissioni bilancio e finanze della Camera, per incontrare proprio i rappresentanti del mondo produttivo regionale. Abbiamo incontrato i rappresentanti del Cismit, che è un'associazione che mette assieme il mondo dello spettacolo, del turismo, ma anche della ristorazione. Un po' tutto quanto uno spaccato di mondo produttivo che richiede davvero oggi l'attenzione. E si pensa a intervenire in diversi settori, tra questi in particolare l'accesso al credito, facilitare l'accesso al credito. Noi sappiamo che non sempre i nostri imprenditori hanno una facilità nell'accedere alle disponibilità che gli istituti di credito propongono. Ma pensiamo anche ad una riforma fiscale, è sul tavolo del Governo proprio in questi giorni una riforma fiscale, ma soprattutto si tenta di intervenire sulla legge anti-usura. Insomma, per l'onorevole Aresta si intravede la luce in fondo al tunnel.